Ciao, nuovo video haul di alcune cose che ho preso dal sito di AliExpress, link e prezzi in infobox. Allora, ho preso questi moschettoni, sono di questo bellissimo colore, sì, molto carini, sembrano fatti bene. Me ne serviva in realtà uno, ma purtroppo la confezione era da 10. Sono abbastanza grandi e li dovrei utilizzare per sistemare un ciondolo di una borsa, che se è tutto rovinato. Si aprono, sì, in questo modo, sono fatti bene. Vediamo un po' se si aprono tutte in maniera corretta. Questo è il terzo, sì, questo è il quarto, questo è il quinto, sì, poi vediamo un po' se si girano in questa maniera. Questo è l'altro, il sesto, anche il settimo è perfetto. Poi, questo è l'ottavo, sì, il nono e il decimo. Fantastico, funzionano tutti, perfetto. Poi ho preso queste bustine, quelle per mettere i cd. Ogni, vediamo, sono azzurre, vediamo se riesco a prenderne una, così ve la faccio vedere meglio. E, ecco qua, vediamo un po' se riesco. Va bene, sono due, va bene. Allora, sì, ci sono due, ogni bustina ha due scomparti. È un pochetto sottile questo materiale, però infatti spero che duri. E ogni foglio ha quattro furi, quindi volendo si può anche creare un porta cd personalizzato. Magari proverò a realizzarlo, vediamo un po' cosa riesco a combinare. Poi ho preso questa cover, questa è sempre per il mio P8 Lite 2017. È semplicemente nera. Di questo materiale è sempre plastica, pura plastica, però è tipo soft touch, un po' morbidina. Molto carina, vediamo un po' i fori se vestono bene il telefono. Direi sì, perfetto. E proverò più avanti magari a decorarla. Alcune delle cover che ho preso poi hanno anche i fori per metterci un charms. Magari se volete possiamo provarne a realizzare qualcuno. Lasciatemi un commento in merito nei commenti. I fori stavo dicendo sono perfetti. Altro pacchettino. Questo è un semplice blocchetto colorato con vari coniglietti di tutto rosa. Vediamo un po' com'è. Togliamo sta plastica. E direi sì, vediamo se ha abbastanza colla. Direi di sì. Sì, è fatto abbastanza bene. Non mi dispiace. Poi sono sempre utili. Altro acquisto. Queste due confezioni contengono le pellicoli per il telefono. Sono quelle in vetro, semplicissime. Ne ho ordinati due perché devo sostituire quella che ho applicato qualche giorno fa. sul mio telefono. Che raccoglie sporcizio in una maniera veramente indescrivibile. E' quella che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Quella con le due bande nere. Quindi ho deciso di cambiarla perché non è proprio decente. Poi, altro acquisto. Questo invece ha sì un'altra cover. Questa invece è al libro. Con questo fiorellino molto molto semplice. Infatti non mi entusiasma. Sempre in finta plastica. Cioè in vera plastica. Ha questa poi tasca finta pure lei. Perché non riesco a sollevarla. Si sarà incollata? O sarà finta? Non lo so. Comunque non si apre. Questa è la cosa certa. Non mi fa impazzire. E' semplicemente nera. Vediamo adesso come vesta il telefono. Vediamo un pochino. Direi sì. Perfetto. I fori sono perfetti. Non sono fatti bene. Altro acquisto. Ho preso questo pad. Sono quelli da mettere sul cruscotto della macchina. per attaccarci in pratica al telefono. E vediamo un pochino. E' giusto. Non è né molto grande né molto piccolo. Oddio che puzza. Comunque. Vediamo un po' se funziona. Non appiccica molto. Direi proprio di no. Infatti si muove. Non lo so se possa funzionare o come possa funzionare in macchina. Comunque sul blog vi farò un articolo nel quale magari vi dirò realmente se funziona o no in macchina. Riproviamoci dall'altro lato. Però no. Non attacca proprio. Vabbè. Vedremo un po' in macchina. Se realmente funziona. Oppure è una cavolata. Altro acquisto. Questa invece è una cover per un Waiko Jerry 2. Di quelle molto semplici. Bianche. Con il retro opaco. Niente di particolare. Poi. Poi ho preso questa cover marrone. Per il mio P8 Lite 2017. La grafica è fatta abbastanza bene. Non è sgranata. Mi piace molto con queste farfalle. È non eccessivamente morbida. Vediamo come avesse il telefono. Vediamo un poco. I fori sono perfetti. Altro acquisto. Questa è un'altra cover. Sempre per il Jerry 2. È fatta abbastanza bene. Con le tasche. Non è niente di particolare. È semplicissimo. Altro acquisto. Questa volta sono delle clip. A forma di goccia. E sono di tre colori differenti. Argento. Molto carino. Questo Tiffany. E questo oro. Proviamo ad aprirne una. Ogni confezione ha più o meno dieci clip. E sono molto carine. Altro acquisto. Un'altra cover. Sempre in nera. Gli ho prese due nere. Perché volevo provare a decorarle. Questa ha i forellini. Per mettere il charms. E i fori. Per il volume. Eccetera. Sono fatti bene. Non mi posso lamentare. Anzi. Altro acquisto. Questo semplice. Wash rosa. Ma dove avevo la testa. Quando l'ho ordinato. E' molto carino. Semplicissimo. Altro acquisto. Questa volta. E' un astucetto. Che io lo devo utilizzare. Per mettere i cavi. Cavetti. Dei vari dispositivi. L'ho preso un pochetto. Floreale. Vediamo un poco. Gli interni. Direi. Originariamente. Era per il trucco. Invece io lo voglio utilizzare. Per i cavi. Altro acquisto. Questa volta. Sono delle clip. Alcune sono con la farfalla. Altre col cuore. Queste in particolare. Hanno sei pezzi. Per ogni confezione. E sono molto carine. Sono durate. Queste. Invece. Sono le clip. Che mi sono state mangiate. Dal venditore. Non ho ancora capito. Che forma abbiano. Se voi lo sapete. Per favore. Fatemelo sapere. Nei commenti. Perché io non ho proprio dire. Altro acquisto. Questa volta. E' una cover. Sempre per il mio P8 Lite 2017. Ed è a forma di gattino nero. Molto morbida. Ed è in silicone. Vediamo adesso come veste il mio telefono. Vediamo un po'. E direi che è... Sì. Perfetta. Poi mi piace che il nasino è commoso. Come la cover. Fatta molto bene. Anche questa ha i forellini per i charms. E i furi per cavi eccetera. Sono perfetti. Non mi posso lamentare. Poi al tatto è tipo anche questa. Tipo soft touch. Ed è molto morbida. Infatti mi piace molto. Altro acquisto. Vediamo un po'. Un'altra cover. Questa è sul celeste. Effetto jeans. Ma sinceramente in pura plastica. Ha questa rosa molto carina. E questo bottone. Tipo proprio effetto jeans. Con questa cinghietta. E le tasche. Qui che sono sempre utili. E questa tasca più grande. Vediamo adesso come veste il telefono. Ah, all'interno sembra tipo velluto. Ma anche questo è pura plastica. Niente di particolare. Vediamo come veste il telefono. Vediamo un pochino. Direi proprio di sì. Sì, i furi sono perfetti. E non intralciano l'uso del telefono. Molto carina. Sempre utile. Poi per il prezzo che hanno. Sicuramente ho preferito farne scorta. Altro acquisto. Vediamo un po'. Altri washi. Perché li voglio utilizzare. Per decorare delle cover. Questa è. Sono entrambi tipo pizzo. Sono uguali. Cambiano solo il colore. Uno è bianco. L'altro è sul celeste. Questo celeste Tiffany. Credo che si chiami così. Sono molto carine. Vediamo un poco. Sì, sì. Sono uguali. Perfetto. Altro acquisto. Questa volta. E proprio un'altra cover. Sempre per il mio P8 Lite 2019. 2017. Vediamo un po' come. Allora. La grafica è ottima. Non è sgranata. E vediamo adesso come veste il mio telefono. E direi che è perfetto. Mi piace. I fori sono perfetti. La misura anche. E sì. Direi proprio di sì. E questa però non ha i fori per il charms. Vabbè. Posso magari provare io a farli. Altro acquisto. Queste sono cover. Bianche. Bianche. Più che altro trasparenti. E le ho prese. Perché volevo provare a decorare anche queste. Vediamo un pochino come vestono il telefono. Allora. Come prima impressione. Sembrano eccessivamente morbide. Almeno per i miei gusti. Sono sì. Sono perfettamente uguali. Sono praticamente morbidissime. E non tanto mi convincono. Le avrei preferite un pochino più rigide. Poi vediamo. Sì. Vestono perfettamente il telefono. Altro acquisto. Sono queste due piegacarta. Sono in pura plastica. Quindi non so nemmeno se sono adatte. Comunque le proverò. E magari vi farò sapere. Sempre in un articolo sul blog. Ecco un altro pacchettino. Queste sono delle forme in pratica in legno. Rappresentano dei fiori e delle stelle. Sono molto carini. Sembrano fatti abbastanza bene. Però qualcuno ha già notato che è rotto. Allora. Non hanno. Ogni forma non ha la stessa quantità. Quindi vi potete trovare due di un genere. Cinque o sei di un altro genere. Purtroppo di questa forma due mi sono arrivate rotte. E quindi solo una in pratica posso utilizzare. Per il resto più o meno abbiamo dalle due alle sei sette forme. Quindi in pratica vi arriverà un mix di soggetti. Altro pacchettino. Sono questi washi. Questo verde e questo bianco. Molto carini anche loro. Non ve li apro perché la confezione è un po' particolare. Quindi si sdralotola in maniera molto veloce e facile. Per il momento è tutto. Questi sono stati tutti gli acquisti presi da AliExpress. E se vi va lasciatemi nei commenti qual è l'acquisto più bello secondo voi. Se volete qualche recensione in particolare lasciatemi nei commenti. Così magari vi posso dire se mi ci sono trovato bene o male. Se vi va iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E ci vediamo al prossimo. Ciao!